Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Quest'oggi prepariamo insieme la Napoleon Cake. È una sontuosa torta di origine russa a strati, nella quale si alternano 12 strati di deliziosa pasta sfoglia con una crema pasticcera al burro. Le sue origini sono abbastanza incerte e si pensa che risalga la campagna napoleonica per la conquista della Russia. Si potrebbe definire come la variante della millefoglia italiana. Con il tempo, diventata il dolce nazionale appunto della Russia, poiché ogni famiglia ha la propria variante. Si potrebbe definire come la variante russa della millefoglia italiana. Con il tempo è diventata un vero e proprio dolce nazionale, poiché la preparazione è tipicamente casalinga e ogni famiglia ha la sua variante. La Napoleon Cake è un dolce importante, perfetto per tutte le occasioni speciali, da un compleanno a concludere un bellissimo pranzo in famiglia. La sua preparazione richiede un pochino di attenzione e tempo, ma vi assicuriamo che i risultati saranno sicuramente appagati. Iniziamo! In un mixer mettiamo 500 g di farina 00, 170 g di farina manitoba e 400 g di burro freddo dal frigo a cubetti. Frulliamo fino ad ottenere un composto sabbioso. Poi lo trasferiamo in una ciotola capiente. Se non ci stanno tutti gli ingredienti in un colpo, dividiamo in due parti e facciamo due passaggi. Mettiamo la ciotola da parte e prendiamo un contenitore dove mettiamo due uova e le sbattiamo un po'. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di sale, 150 millilitri di acqua fredda dal freezer e un cucchiaino di aceto di mele. Diamo nuovamente una mescolata e aggiungiamo il composto di uova a quello di farina e burro. Amalgamiamo gli ingredienti con una marisa, poi trasferiamo l'impasto sul piano da lavoro infarinato e lo lavoriamo brevemente per formare un impasto compatto. Formiamo un salsicciotto e dividiamo in 12 parti uguali con un tarocco. Aiutandoci con le mani formiamo una pallina che andiamo a pirlare un pochino per renderla sferica. Prendiamo una pirofila infarinata, ci trasferiamo tutte le palline, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigo per almeno tre ore. Poi prendiamo una pallina e richiudiamo subito la pirofila con pellicola e rimettiamo in frigo. Mettiamo la pallina su un piano da lavoro infarinato e la stendiamo finché avrà almeno 22-23 centimetri di diametro. Poi mettiamo in freezer per almeno 5 minuti. Con una forchetta bucherelliamo tutta la superficie, infine cuociamo a forno ventilato 200 gradi per circa 10 minuti, ossia fino alla doratura. Sforniamo e lasciamo raffreddare su una griglietta e ripetiamo il procedimento con le restanti palline. Prendiamo un disco di pasta sfoglia e ritagliamo la forma di un cerchio di 20 centimetri di diametro con un coltello. I residui li mettiamo in una ciotola perché ci serviranno più tardi. Facciamo questo procedimento con tutti i dischi di sfoglia. Adesso prepariamo la crema. Quindi in una pentola mettiamo 750 millilitri di latte intero a scaldare a fiamma bassa. Poi prendiamo una bacca di vaniglia bourbon e ne ricaviamo i semi. La bacca invece la dividiamo in due e la aggiungiamo al latte così che possa sprigionare ancora di più il suo magnifico gusto. In una ciotola mettiamo 6 tuorli, 170 grammi di zucchero semolato e 55 grammi di maizena. Mescoliamo fino ad ottenere una crema omogenea. Aggiungiamo un mestolo di latte caldo al composto di uova e mescoliamo bene per amalgamarlo. Poi aggiungiamo tutto il restante latte, mescoliamo molto bene con un frustino e versiamo il composto nella pentola. Mescoliamo sempre e lasciamo ad addensare a fiamma bassa per 2-3 minuti. Quando avrà raggiunto questa consistenza togliamo la crema dal fuoco, aggiungiamo 100 grammi di burro e i semi di vaniglia, poi mescoliamo finché saranno amalgamati e trasferiamo in una ciotola capiente. Copriamo con pellicola trasparente a contatto e lasciamo a raffreddare a temperatura ambiente. Poi togliamo la pellicola e aggiungiamo poco alla volta 250 grammi di panna montata già zuccherata, mescolando con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Finalmente siamo arrivati all'assemblaggio della torta, quindi su un piatto da portata mettiamo un po' di crema per far aderire la torta, poi appoggiamo sopra un disco di sfoglia. Aggiungiamo due cucchiai abbondanti di crema e la spalmiamo su tutta la superficie. Aggiungiamo un altro disco e ripetiamo il procedimento con i restanti. Dopo aver spalmato la crema anche sull'ultimo strato, ricopriamo la torta con la restante crema, aiutandoci con una spatolina. Prendiamo gli scarti di pasta sfoglia di prima e li sbricioliamo finemente con le mani. Poi ricopriamo interamente la torta. Et voilà! Ecco la nostra torta Napoleone! Mettiamo in frigo per tutta la notte. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito sia all'assaggio e adesso gustiamo questa deliziosa torta. Guardate quanti bei strati! E adesso la mangio! Cosa posso dirvi? È buonissima! Assomiglia molto alla millefoglia italiana. La pasta sfoglia è bella, croccante e burrosa e la crema pasticcera è fantastica ed è piena di questi semini di vaniglia che danno un gusto meraviglioso. Stando in frigo i gusti della pasta sfoglia e della crema si sono fusi insieme a creare un perfetto connubio che è davvero spettacolare. Insomma, cosa posso dirvi? È una torta perfetta! Assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale, iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video!